La finestra invernale di mercato sarà utile alla Virtus Francavilla per migliorare e potenziare la rosa a disposizione di Calabro senza grandi rivoluzioni. In occasione della serata degli sponsor, il direttore generale Domenico Fracchiolla ha tracciato la strategia in vista di gennaio. Il mercato non finisce mai, si parla sempre, si chiacchiera, però è chiaro che nei detti lavori c'è ancora un po' di calma, perché c'è l'ultima gara prima di Natale, secondo me sarà un mercato particolare perché tante squadre come noi, Foggia, Avellino, Turris, ma anche in altri gironi, per esempio la Triestina o il Novara che avevano le loro idee di fare qualcosa di meglio, non lo stanno facendo e quindi vorranno cambiare tanto, bisogna stare lì, aspettare e capire quale opportunità scegliere. Secondo me sarà un mercato che chi si sa muovere sicuramente si rinforzerà e prenderà delle opportunità interessanti. Un passaggio anche sui due gioiellini che si sono messi in mostra alla nuova Red Arena, vale a dire Macca e Di Marco. Sono due giocatori di grande prospettiva, di futuro, giocatori diversi, perché Macca è un giocatore di qualità, un palleggiatore, un ragazzo molto intelligente, mentre Di Marco è un giocatore di gamba, di forza. Adesso vedremo nel mercato di gennaio, se riusciamo a cambiare il loro status con noi, vediamo, sicuramente partiremo di là, il nostro mercato partirà da Macca e Di Marco che proveremo a patrimonializzarli.